buonasera siccome oggi era domenica e me la sono sciallata con la mia amica maria teresa che mi è venuta a trovare e siamo andate a zonzo per la montagna non mi sono assolutamente né studiata né preparata né pensata qualche argomento e quindi onde evitare di saltare il video serale anche se di solito non me li cacate molto io vi appioppo lo stesso un ciac si evoca che a mio avviso continua a essere fondamentale anche la cultura cinematografica a volte più che altro per imparare a ragionare sul vero sul falso e su tutte le possibilità del mondo visibile e invisibile un ciac si evoca che parla di reincarnazione e di entità elevate entità elevate che un tempo venivano chiamate anche divinità un ciac si evoca dei le mie amate e solite passioni per i drama asiatici ovvero per i telefilm asiatici questo drama questo telefilm si intitola emperor and me in inglese l'imperatore e io in italiano in cinese non ve lo pronuncio di cosa parla prima ve lo racconto comincia con una ragazza in tempi antichissimi tipo 10.000 anni fa che sta arrancando su una montagna è stanca è sfinita ma deve arrivare lassù arriva davanti a un enorme portone di pietra e fa di tutto per cercare di entrare bussa si dispera piange e invoca il dio del tempo per comodità mentale lo chiameremo cronos come il dio del tempo greco perché per assonanza è più facile da ricordare fin quando cronos non decide di aprirle il portone lei entra in questa specie di salone all'aperto sulla cima della montagna e incontra faccia a faccia il dio del tempo lui le chiede cosa vuole perché andata fin là e lei le risponde che la sorella è stata uccisa ma che lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per riaverla in vita cronos le risponde che se ormai è successo quello che è successo non può cambiare il destino ma lei insiste si sente in colpa dice che è colpa sua se la sorella è morta e che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di vederla ancora in vita gli era stato detto cercando in giro disperatamente un modo per far tornare in vita la sorella che appunto il dio del tempo avrebbe potuto in qualche modo riportare indietro il tempo e fare in modo che la sorella non morisse da lì è cominciato il suo pellegrinaggio alla ricerca proprio della casa del dio del tempo il dio del tempo impietosito in parte dalle lacrime e dalle richieste di questa ragazza le dice dovrai restare qui per un anno intero servirmi riverirmi fare la cameriera allo scadere di questo anno tu sarai libera di andartene e se mi avrai servito a dovere tua sorella tornerà in vita lei accetta e resta lì con lui ma in questo anno succede qualcosa il dio del tempo si innamora di questa ragazza e lei anche non sono più una cameriera e un signore ma vivono praticamente come se fossero marito e moglie allo scadere dell'anno però la divinità elevata deve mantenere la sua promessa e quindi succede una specie di sembra quasi un terremoto mescolato a una sorta di temporale e si capisce che lei sta per scomparire da quel posto e non si capisce però cosa succederà al dio del tempo il dio del tempo scusate accortosi che sono ormai gli ultimi istanti in cui possono stare insieme decide di imprimerle su una mano una sorta di tatuaggio fatto a forma di fior di loto che servirà in un futuro prossimo a poter riconoscere la sua reincarnazione dopo questo evento lei lui inizia a sparire piano piano lei si dispera urla che non vuole che se ne vada ma a un certo punto il dio del tempo scompare del tutto e il portone enorme di pietra che si era richiuso alle spalle della ragazza si apre siamo adesso negli anni 2000 ai tempi nostri ci sono due migliori amiche che sono sempre insieme e frequentano la stessa scuola superiore un pomeriggio durante l'ora della pausa pranzo qualcuno della scuola va a dire alle due amiche che una terza amica che stava con loro e che era eternamente depressa aveva un sacco di seghe mentali e via dicendo era seduta sul cornicione del palazzo con l'intenzione di cacciarsi di sotto allora loro due le due migliori amiche decidono di correre ad aiutarla corrono sul tetto la vedono seduta sul cornicione iniziano a camminare su questo cornicione e la protagonista gli allunga la mano come per dire viene indietro ma mentre gli allunga appunto questa mano lei con uno strattone fa cadere la sua migliore amica giù di sotto lei rimane flashata e nell'agitarsi perché è caduta l'amica dopo poco cade anche lei dal palazzone della scuola mentre sta cadendo la protagonista fa così distinto per ripararsi la faccia le appare sulla mano il fior di loto della reincarnazione precedente e lei di punto in bianco scompare da quel posto riappare in mezzo a una battaglia di circa duemila anni fa campo di battaglia imperatori a confronto che stanno combattendo lei piove proprio dal cielo arriva lì uno degli imperatori dei due eserciti la vede che sta cadendo e si lancia per acchiapparla al volo la prende al volo gli fa un male porco ma la salva e lui si convince che lei sia la sua imperatrice mandatagli dal cielo allora decide che se la vuole sposare lei non capisce nemmeno perché è lì si sente strana però ha in tasca il cellulare e seguirà una serie di eventi in quel passato durante una litigata che però questo imperatore che è molto duro molto greto ma anche molto gnocco sta facendo con la madre quindi con l'imperatrice vedova e a un certo punto preso dalla rabbia decide di tagliarle la testa lei si mette in mezzo per difendere l'imperatrice madre dicendo appunto all'imperatore è comunque tua madre non puoi fare queste cose qua la sua giù e mentre lui sta per affondare la spada lei lo blocca con le mani per non far arrivare il colpo di spada un'altra guardia che la vede intromettersi si lancia per colpire lei lei con l'altra mano fa così dove c'è il tatuaggio ma sta tenendo anche l'imperatore con una mano spariscono di botto tutti e due e si ritrovano in piena città moderna della Cina di oggi con tutta la gente che li guarda così perché lei sta ancora tenendo la mano di questo con la spada che c'ha l'armatura e tutto pettinato con i capelli lunghi raccolti su all'antica e insomma lei decide di portarsela dietro e portarselo a casa perché non sa come fare da una parte ha paura perché questo è molto violento come persona però d'altra parte gli dispiace mollarlo in una città del futuro sapendo che comunque lui viene dal passato e non ci capirebbe la fava lei dorme però nel dormitorio scolastico quindi lo nasconde in camera sua insomma succederà un po' di tutto lui si abituerà a stare lì lei all'inizio lo convincerà che quello lì è il paradiso è uno dei nove paradisi celesti perché lei veniva dai paradisi celesti e cerca di convincerlo a comprendere meglio quel mondo succederanno una serie di eventi anche qua e un giorno lei verrà rapita e lui la salverà perché lui comunque è abituato a combattere quindi riuscirà a inseguire addirittura a piedi una macchina la macchina che l'ha rapita riuscirà a sgominare la banda dei rapitori la salverà e via dicendo succederà di nuovo un altro pericolo nel quale sono insieme lui e lei lei di nuovo alzerà le mani per ripararsi e tornerà un'altra volta in un altro passato ancora in questo passato incontreranno un altro imperatore di un'altra dinastia è una dinastia posteriore a quella del primo imperatore e questo sarà un dispotico sarà un viziato farà un sacco di dispetti e via dicendo comunque alla fine morale della storia lì nel passato lei incontrerà una ragazza alla corte che è in tutto e per tutto identica alla sua migliore amica quella che è volata per prima dal palazzo che lei pensa sia morta e questa cosa la farà rimanere un po' così scompariranno di nuovo e questa volta nel futuro porterà lei grazie sempre al tatuaggio fior di loto l'imperatore primo e anche il secondo imperatore la stessa cosa succederà con una terza dinastia torneranno di nuovo tutti indietro per ritornare tutti di nuovo nel futuro con un terzo imperatore anche anche in questo periodo del terzo imperatore rincontreranno una persona una dama che ha le stesse sembianze della sua migliore amica e lì la sua migliore amica cioè la ragazza gli racconterà la verità parte della verità e gli dice che lei è immortale lei era la sorella della sua reincarnazione quando il dio del tempo decise di tornare indietro spostando e sballottando tutto il sistema temporale della terza dimensione l'aveva fatta tornare in vita ma non gli aveva più dato la possibilità di morire e lei era stanca era stuffa non ne poteva più lei voleva morire la ragazza non capisce perché non ricorda lei la vita precedente ma succederanno ancora una serie di situazioni per le quali alla fine si ritroveranno di nuovo lei e i tre imperatori nel futuro in questo futuro ci sarà un qualcuno che cerca in tutti i modi di ucciderla e di uccidere il primo imperatore quello che era arrivato dal primo ma non sanno chi è cercheranno di buttarli fuori strada con una macchina e li salverà proprio la migliore amica che a quel punto scendendo dalla macchina gli dirà che appunto non era morta cadendo da quel palazzo proprio perché lei è immortale e gli ricorda che centinaia di anni prima gliel'aveva già raccontato appunto quando si erano incontrate durante la dinastia del terzo imperatore lei comincia ad avere un attimino di sfarfallio non capisce capisce però non riesce a connettere bene tutta la situazione inoltre i tre imperatori risultano essere tutti e tre innamorati di lei ed è un gran casino lei in realtà è attratta dal primo da quello che era venuto per primo anche se trovava certe similitudini in tutti e tre studia le loro dinastie studia quello che è successo nelle loro epoche e tutto quanto ma non riesce a trovare l'aggancio del perché in qualche modo tutti e tre gli ricordino uno e l'altro arriverà al finale nel finale si scoprirà che il dio del tempo per poter riportare appunto indietro il tempo materiale della terza dimensione aveva annullato se stesso dividendosi in tre anime o meglio in quattro anime tre anime è un'essenza le tre anime erano diventate i tre principi i tre imperatori delle tre diverse dinastie mentre la sua essenza temporale era rimasta a governare la montagna ma l'essenza da sola senza i suoi tre pezzi d'anima era troppo debole e a lungo andare nel corso dei secoli questo sbilanciamento temporale aveva iniziato a fare dei bug a fare dei buchi degli errori e questo portava sia la sorella non riuscire a morire sia lei a saltellare da un posto all'altro e il bug stesso aveva mandato praticamente lei come se fosse stata una calamita a recuperargli i suoi tre pezzi d'anima dovranno andare alla montagna ma alla montagna si scoprirà che i tre principi si dovranno sacrificare e fondere tutti e tre insieme perché perché con la la perdita di potere da parte dell'entità che controllava il tempo un'altra entità stronza stava cercando di prendere il sopravvento sulla terza dimensione questa entità in questa fiction in questo drama si identifica come un'entità del caos ma non dice che entità sia di preciso vuole prendere il posto di cronos vuole governare la terza dimensione ma ma loro non glielo possono permettere troveranno un modo in cui attraverso un'arma una spada particolare tutti e tre si dovranno fondere l'un con l'altro ma mentre lo stanno per fare arriverà l'amica l'immortale che si scoprirà avere dentro se stessa l'entità del caos perché in un momento di rabbia nel quale gridava al cielo che non ne poteva più e che voleva morire non voleva essere eterna il caos ne aveva approfittato per entrare dentro di lei ed è lui a comandarla allora comincia a spiegarle che lei non potrà mai morire fin quando non morirà la sorella l'amica la protagonista e che inoltre prendendola in giro gli dice che i tre imperatori nel momento in cui si rifonderanno alla loro essenza primordiale dimenticheranno tutto quindi anche il suo amato si dimenticherà di lei lei presa dal dolore di questa cosa presa dallo sconforto del fatto che l'amica sorella adesso la odiava perché non voleva essere eterna invece per colpa sua aveva vissuto migliaia di anni aveva patito migliaia di anni un po' presa dal fatto che il destino della terra era comunque legato a lei decide di farla finita prende questa spada magica e si taglia la sola la gola morendo a terra nel momento in cui more le porte si aprono i tre imperatori arrivano e il primo imperatore quello che era più legato a lei si dispera in una maniera esagerata alla fine guarda gli altri due e gli dice voi due siete parte di me e anche voi due l'amavate ora l'unico modo che abbiamo è di sconfiggere il caos e di riportare l'ordine nel tempo e il secondo non è tanto d'accordo a sacrificarsi gli girano un po' le balle ma alla fine accetta il terzo è concorde sin dall'inizio mettono tutti e tre la mano sulla spada succede un boato succede un un qualcosa e si vede come un film all'indietro che corre 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 fino a ritornare al momento in cui la ragazza stava cercando di salvare la compagna di scuola che si voleva cacciare di sotto ma la migliore amica non c'è con lei lei non è mai esistita il dio del tempo era riuscito a sconfiggere caos ristabilendo l'ordine temporale ma per ristabilirlo ha dovuto fare in modo che la migliore amica sorella non divenisse eterna non divenisse immortale e in contemporanea però per bilanciare la situazione ha dovuto nuovamente risacrificare le sue tre anime rimandandole nei tre luoghi dove erano state designate quindi a diventare imperatori delle tre dinastie gli altri due non ricordano precisamente ricordano cose perché comunque fanno parte di una divinità a livello animico ma ricordano solamente qualche sprazzo qualche cosa un'assonanza che però non gli è chiara mentre invece il primo imperatore che poi era l'anima principale del dio del tempo ricorda di lei ricorda tutto e spesso guarda la luna o guarda nel lago e cerca di vedere di ricordare il viso di lei lei è nel futuro lei non ricorda nulla perché lei non l'ha vissuta ma c'è un qualcosa c'è un sentore che a volte guardando in un vetro o guardando in uno specchio le fa quasi sembrare di vedere i lineamenti di lui vestito come l'imperatore della sua epoca dall'altra parte e rimane un po' così come per dire io non so perché vedo questa immagine non lo conosco ma mi manca però è rimasta viva cioè è tornata in vita praticamente è stato riportato indietro un'altra volta il tempo questo film questo drama a parte che ha delle musiche bellissime e anche delle scene molto simpatiche anche da ridere non è estremamente drammatico i drama asiatici normalmente hanno molte parti comiche anche simpatiche da ridere e anche questo non fa eccezione e io l'ho trovato bellissimo per la richiesta di lei al dio del tempo per il segno che lui le ha lasciato a livello animico quindi quel tatuaggio a forma di loto che potrebbe essere anche identificato come un neo come una voglia come un qualsiasi altra cosa un segno di riconoscimento nelle vite future mi è piaciuto tanto il senso del sacrificio della divisione della divinità stessa in quattro parti per fare in modo che il tempo potesse arretrare e tornare indietro e tanto l'occasione che ha preso il caos che non si sa che divinità fosse ma di caos trattasi per cercare di prendere il potere su tutta la dimensione materiale queste sono cose abbastanza assonanti con ciò che in occultismo occultismo vero serio non le puttanate spila spiccioli si sanno si studiano e si ricercano ovvio non un dia del tempo che si innamora della mortale quella è la storia del film che c'è dove va sta perché ci sta bene in un telefilm è un classico ma proprio le ritmiche le assonanze la divisione animica un'altra entità elevata o divinità che dir si voglia che cerca di prendere il sopravvento e quindi ci sarà una lotta di eterni la storia si ripete è un po' come come nelle religioni dove c'è il protagonista e l'antagonista dove c'è anche tra gli esseri umani stessi le guerre di potere che purtroppo sono all'ordine del giorno dagli impiegati in ufficio fino ad arrivare ai presidenti degli stati c'è sempre una lotta di potere e questa descrizione di una lotta di potere anche tra entità elevate nel film definite divinità ma in realtà entità elevate perché gli esseri umani terrestri hanno sempre identificato delle entità elevate chiamandole col nome di divinità e non hanno mai calcolato che in realtà ogni singola azione è sì controllata in qualche modo da delle entità elevate ma da una schiera di entità elevate mentre l'essere umano tende a unificare il dio del tempo no sono le incarnazioni del tempo il dio della morte no sono le incarnazioni della morte e sono mille mila mille mila per il tempo mille mila per l'amore mille mila per la morte mille mila per il sonno mille mila per mille mila cose niente questo drama di nuovo mi è piaciuto tantissimo e lo consiglio ovviamente questo però non lo trovate con i sottotitoli in italiano al momento c'è ancora soltanto in cinese vietnamita giapponese indie o se no con i sottotitoli in inglese per cercarlo con i sottotitoli in inglese basta che cercate appunto emperor and me vi saluto con il ciò che si evoca delle mie lucubrazioni asiatiche vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social che frequento come al solito e un po' più sotto invece ci sono i link delle mille mila librerie che tengono in vendita i miei cinque sempre loro libri ma uscirà il sesto prima o poi uscirà è solo che ho quattro progetti e devo vedere quale buttare fuori per primo io partorisco libri che la mamma dei mostri di Demopassant me fa una cippa ciao 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 ciao